Il castello di Avalon è un luogo creato per custodire i sogni che non possono essere dimenticati. Per tutti gli appassionati del mondo fantasy, per voi che vi addentrate, udite, le fate sono tornate. Se il tuo cuore trabocca di sogni e speranze, la nebbia scompare e Avalon vi appare. Collezionismo, fantasy medievale, libri, gioielli, pietre e cristalli, tarocchi, rune e pendoli, carte divinatorie, abiti fantasy, vendita e noleggio.